Ancora una volta, se possibile, perché la storia di questa partita ci dice molto di diverso, che qualcosa regali L'unica cosa è, dobbiamo sperare adesso, che fa qualche cazzata Speriamo, sì, gioco ordinato però, guarda bene la palla, gioco ordinato Grazie, sono pure palle nuove Appunto, cazzi tuoi, cioè, cazzi tuoi Ciao Beh, direi chiarissimo, no? Abbastanza Grazie